ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video questo qui è un video di copertura copertura su unghie naturali fatte a mia mamma io ho messo la tip come vedete soltanto questa mano qui la sinistra nell'anulare ha scelto questo colore poison black di passioni unghie e il don perignon che poi lo vedrete tra un argento oro non si capisce tanto è assomiglia molto allo champagne come colore sempre di passioni unghie sempre due passate tutte e due e infine io ho fatto nel medio sia tra mano sinistra che mano destra di fiorellini incontornati con lo stesso don perignon per fare delle linee sottili eccetera eccetera dopo usato il colore acrilico per fare il fiorellino bianco infine un brillantino e nel pollice nel mignolo io ho messo sempre il don perignon questo color champagne e io l'ho messo un po in punta e poi sfumato con il pennello colori aventaio pennello di pavone insomma come si chiama e niente questa qui è l'anelarte che ho fatto a mia mamma che l'ha voluta ha avuto questo tipo dell'arte e gli è piaciuta veramente tanto spero che piacerà anche a voi e se sarà così metterete un pollice in su sotto al video se volete mi commentate io vi lascio la visione del video e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao